buona giornata amici da massimo foghetti benvenuti alla rassegna stampa di fanu tv iniziamo la giornata oggi con la lettura dei giornali come sempre a partire dai giornali con cronaca locale il resto del carlino e il corriere adriatico oggi il sole sorge anzi è sorto alle 5 e 39 tramonterà alle 8 e mezza di questa sera alle ore 20 e 30 vediamo il santo che si festeggia oggi è un santo noto nel nostro territorio e vedremo perché si tratta di san pasquale bailon san pasquale era nato in spagna nel 1540 fu un grande difensore dell'eucarestia che difese con tutte le sue forze di fronte alla eresia dei jansenisti in vita e dopo la morte compì molti miracoli nel nostro territorio e questo è quello che volevo dirvi nel nostro territorio san pasquale è il patrono di terre roveresche un santuario si trova nei pressi di san giorgio di pesaro fu fondato c'era un convento un convento francescano fondato nel 1523 quindi prima della nascita di san bailon però insomma dopo la chiesa fu a lui intitolata ed è una chiesa molto molto frequentata un po non solo da san giorgio ma da tutto l'entroterra quindi san pasquale bailon un santo conosciuto nel nostro territorio ed ora vediamo le previsioni del tempo vediamo come i cieli sulla nostra regione lo vediamo dalla grafica si mantengono sereni prevalentemente sereni c'è una possibile instabilità sugli appennini durante il pomeriggio comunque le temperature sono alte le massime arriveranno addirittura fino a 29 30 gradi ancora oggi un anticipo della stagione estiva i venti ispireranno sulle coste e da una direzione di ovest e sud ovest lo stesso per quanto riguarda l'entroterra bene ci ho detto apriamo il giornale cominciamo oggi dal corriere adriatico lo vediamo qua sulla pagina di fano e c'è una notizia di cronaca purtroppo ieri si è verificato un incidente che ha coinvolto tre alunni tre ragazzini che frequentano le scuole la scuola media padalino investiti tre ragazzini sulle biciclette botto a santorso e tutti alle finestre per vedere quello che era accaduto l'incidente si è verificato al rientro a casa terminato l'orario scolastico sono stati trattenuti al pronto soccorso con ferite lievi due ragazzini dopo l'impatto con un'auto si tratta di una volkswagen app scura condotta da una 22 n che non risiede nella città di fano che certo non si aspettava di trovare questi ragazzini che hanno traversato la strada si purtroppo sulle piste sulla strisce pedonali però insomma alle selle della bicicletta quindi non è stato possibile evitare l'impatto comunque ovviamente sarà la polizia sarai i vigili urbani la polizia locale a verificare le dinamiche dell'incidente dicevo due ragazzini una volta accaduti si sono rialzati da loro stessi e hanno ripreso le loro biciclette mentre un terzo è rimasto sull'asfalto ed è rimasto lì finché non è arrivata la autoambulanza del 118 per fortuna insomma questi ragazzi non sono in gravi condizioni e quindi se la caveranno successo per l'avviamento alla medicina nei licei una bella iniziativa questa realizzata dal miurre in collaborazione con l'ordine di medici in modo particolare di quello di pesaro che ha attivato sia al liceo marconi di pesaro che al liceo nolfi di fano questa attività propedeutica alla iscrizione alla facoltà di medicina insomma i ragazzi si preparano quelli che vogliono intraprendere la professione di medico ad entrare alla università ed è stata una bella iniziativa di cui dicevo appoggiata dall'ordine dei medici di pesaro dal dottore battistini che ha delegato giovanni del gaiso e il dottor franco cesaroni a rendere esecutivo a questo progetto per quanto riguarda fano i ragazzi sono stati guidati dalla professoressa donatella marchioni e tutti hanno terminato il percorso quindi sosterranno la prova per entrare appunto in medicina e sappiamo che c'è il numero limitato ancora sulla pagina di fano vediamo che c'è una proposta una proposta dei 5 stelle per introdurre nelle sedute del consiglio comunale la question time cos'è la question time la question time vediamo qui il titolo la question time è una una parentesi di tempo circa 30 minuti che ogni seduta del consiglio comunale dovrebbe dedicare a trattare le istanze dirette dei cittadini quindi dovrebbero essere gli stessi cittadini senza l'intermediazione appunto dei consiglieri a presentare i loro problemi le loro necessità le loro istanze quindi la giunta dovrebbe essere pronta a rispondere a questi quesiti domande dirette in consiglio su temi urgenti il movimento 5 stelle rilancia la proposta e presenta una mozione e poi una notizia sportiva una notizia sportiva che il correa adriatico pone in questa posizione a fondo pagina ma il resto del carlino poi lo vedremo lo pone in apertura sono due iniziative sportive organizzate dal club nautico di fano geremia vivani un'iniziativa una sodalizio storico della nostra città pensate con il titolo di real l'associazione fu fondata addirittura nei primi anni del 1900 1905 insomma siamo veramente ai primordi dell'attività e vi si praticava il canottaggio il nuoto e la vela ebbene il canottaggio e il nuoto poi sono stati un pochino trascurati e si è andato avanti moltissimo con la vela però adesso si riprende anche il canottaggio e proprio al canottaggio sarà dedicata un'iniziativa che verrà una gara che verrà organizzata domenica prossima nel tratto di mare antistante Lido tra il molo di Ponente e quello dell'Arzilla qui si terrà la seconda tappa di canottaggio valevole per la coppa Filippi su imbarcazioni da 1, 2 e 4 atleti categoria under 19 senior e universitari una iniziativa importante per la quale affluiranno atleti un po' da tutte le regioni d'Italia mentre poi il 28 e il 29 maggio si svolgerà la quinta tappa del campionato giovanile zonale di vela Ilca 4-6-7 valevole per la qualificazione del campionato nazionale di classe insomma queste sono veramente gare importanti gare che consentiranno poi agli atleti di accedere alle gare superiori come i campionati nazionali e Fano in questo momento si pone proprio al centro della regione lo ha convalidato anche Simon Conti che è il presidente regionale della federazione vela come centro di attenzione a livello regionale per delle iniziative veramente importanti e questo grazie appunto al club nautico Vivani deserta l'asta per l'aeroporto nessuno vuole la quota della provincia ebbene era un esito scontato questo chi è che in questo momento si pone ad acquistare le quote della provincia quando le sorti della società Fanum Fortune sono ancora incerte perché poi gli organi superiori devono pronunciarsi per la destinazione di questa società c'è un input della corte dei conti il direttore dell'ente locale ora possiamo valutare gli sviluppi e vedremo appunto che cosa accadrà probabilmente si riproporrà un'altra asta e vedremo poi se ci saranno offerte oppure si dovrà scegliere un'altra opzione il centro materno infantile a Lusaka presto verrà animato da nuova vita il nuovo centro materno infantile di Lusaka è un'iniziativa dell'associazione l'Africa Chiama ed è stato firmato l'accordo tra la presidente Anita Manti che si è recata sul posto un accordo operativo in Zambia per quanto riguarda la gestione di questo centro molto molto importante perché un centro materno infantile in questo paese dell'Africa dove purtroppo ancora molte donne partoriscono nelle proprie abitazioni senza assistenza medica è veramente importante ed ora passiamo alla Val Cesano come un libro all'aperto per liberare nuove energie è una novità che viene lanciata nel comune di Mondolfo ed è lo stesso sindaco Barbieri che lancia una nuova rassegna letteraria tra gli ospiti saranno Guccini, Bartoletti e Galimberti sono alcuni dei grandi ospiti della rassegna che si chiama Come un libro all'aperto in programma tra giugno e luglio appunto a Mondolfo a svelare luoghi, date e tutto quanto si riferisce alla organizzazione è stata l'amministrazione comunale che poi si avvale anche per l'organizzazione della libreria Mondadori di Fano insomma che si pone all'attenzione anche del pubblico per l'iniziativa e Mondolfo adesso punta al titolo nazionale il centro socio sportivo ha vinto il torneo regionale Under 15 e Under 17, un bel risultato sportivo per quanto riguarda questa squadra e veniamo a Senigallia dove si parla di feste abusive feste abusive che sarebbero state organizzate nel sottopasso perilli Il sindaco chiede aiuto alla guardia di finanza Olivetti, il sindaco, dice i raduni notturni per ballare con la musica non possono essere tollerati le telecamere sono in arrivo ma nel frattempo che cosa si fa? Ebbene si chiede appunto l'aiuto delle forze dell'ordine In attesa delle telecamere previste per il sottopasso pedonale di via Perilli Il sindaco si è attivato ieri per garantire maggiori controlli anche di notte per quanto riguarda questo passaggio obbligato ad allarmare sono state due feste abusive entrambe avvenute lì sotto l'ultima sabato scorso insomma bisogna correre a estremi rimedi per quanto riguarda questo comportamento non certo regolare Sabato invece scatta la prima derga in spiaggia fino alle tre Dal primo giugno invece si pagano i posteggi fino a mezzanotte questo per quanto riguarda le spiagge della città che si gode appunto della denominazione di spiaggia di Velluto Vediamo ora qualche pagina regionale dove si parla di ferrovie E ne parla proprio l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli Dai binari alle strade fondi per 5 miliardi e mezzo nei prossimi dieci anni ed è l'investimento che l'assessore ha annunciato nel nostro territorio regionale Ebbene 5 miliardi 510 milioni gli investimenti nelle marche da parte delle ferrovie dello Stato Una cifra considerevolissima Di questi 2 miliardi e mezzo saranno impiegati per realizzare infrastrutture ferroviarie in modo particolare l'Orte Falconara e poi il Bypass Falconara Inoltre la velocizzazione della linea adriatica che procederà per fasi e l'elettrificazione della Civitanova al Bacina Poi altri 2,76, ovvero 2 miliardi e 760 milioni saranno impiegati per le infrastrutture stradali per il secondo lotto della statale 4 Trisurgo Acqua Santa Il completamento dell'adeguamento della E78 4 consiglie nel tratto Falconara-Torrette della statale 16 a collegamento al porto e poi l'intervalliva Tolentino-San Severino-Marche Ecco gli investimenti che la regione si impegna a realizzare E poi abbiamo un commento del presidente di Elica, Francesco Casoli Così potrà cambiare l'economia dell'entroterra Adesso occorre la messa in pratica ovvero essere pragmatici occorre veramente realizzare quanto previsto È un progetto intermodale, ha detto Casoli Coraggioso, non timido come in passato E poi qui abbiamo un'altra dichiarazione Niente affatto timida da parte del vicepresidente della regione Marche Mirko Carloni Il quale cambia musica, cambia pagina E dice Fino adesso abbiamo ascoltato un po' gli appelli degli ambientalisti Abbiamo cercato una compatibilità ambientale che certo rappresenta un po' il futuro del nostro territorio Ma in tempi difficili è anche lecito derogare Secondo Carloni E quindi si può dire sì ai rigassificatori E dalle trivelle in mare per salvare le imprese Il vicepresidente Carloni dice che La speculazione sull'energia strangola le piccole e medie imprese Per un ecologismo di facciata Rischiamo gravi distorsioni economiche Insomma la situazione è molto difficile Più difficile del solito E quindi qualche deroga è ammessa Secondo appunto il vicepresidente della regione Marche E veniamo veramente a Pesaro Dove il turismo riprende sempre le prime pagine dei giornali Ora si parla dei rapporti tra i concessionari di spiaggia e gli albergatori Per riservare gli ombrelloni appunto ai clienti degli alberghi Ombrellone per il turismo I prezzi li decidiamo Noi dicono i singoli operatori Vabbè sto fatto un accordo tra le associazioni di categoria Ma poi insomma i rapporti tra cliente e concessionario Sono rapporti individuali Quindi i prezzi vengono decisi unilateralmente Anzi bilateralmente Albergatori e i bagnini il patto c'è Ma a Levante i balneari scalpitano per gli accordi economici Movida molesta l'ultimatum Musica e alcol Nuove regole nel comune di Pesaro Dagli hotel una perentoria richiesta di un incontro Con il sindaco Ricci e l'assessore competente Ma il sindaco Ricci questa settimana è fuori gioco Perché? Perché il sindaco è risultato positivo dal covid Lo vediamo qui in questo articolo di spalla Sindaco sono positivo al covid Ecco la nuova tabella di marcia E purtroppo hanno dovuto essere rinviate alcune manifestazioni Come la camminata di ieri e la pedalata del 22 maggio Insomma il sindaco però non accusa gravi sintomi E probabilmente gli basterà una settimana Di convalescenza di riposo Per uscire negativo dal covid Tribunale entro giugno Una facciata in sicurezza E' quasi completato il montaggio Della grande impalcatura su via San Decenzio La vediamo in questa foto E la referente della ditta appaltatrice Dice per concludere l'intervento Saranno necessari sei mesi E qua invece abbiamo un articolo Che riguarda la situazione dell'ambiente In modo particolare dell'atmosfera Per quanto riguarda la presenza delle polveri sottili In quattro mesi si sono verificati 22 sforamenti Tanti ma sempre però contenuti entro i limiti Appunto secondo le possibilità di deroga L'assessore porta in consiglio la relazione dell'ARPAM Altri controlli alla centralina di via Scarpellini Ebbene ipotizza l'assessore Anzi ipotizza l'agenzia l'ARPAM I superamenti sono dovuti prevalentemente allo stato di alta pressione atmosferica E quando c'è bel tempo insomma la concentrazione di polveri sottili purtroppo aumenta Speriamo che si mantenga nei limiti almeno delle deroghe Ok è l'accordo per il nuovo ospedale Ma la Lega si spacca Tre lasciano l'Aula Il Consiglio Comunale di Pesaro Ha appunto raggiunto l'unanimità Perché poi non c'è stato alcun voto contrario Per quanto riguarda l'accordo tra regioni Appunto e comune Per la questione dell'ospedale di Muraglia Però insomma dalla Lega ci sono stati dei mal di pancia Tre sono usciti dall'Aula Sono stati dall'asta Totaro e Marchie e Marchioni Che hanno preferito non esprimersi E quindi non dare un voto contrario E poi il circolo della stampa di Pesaro Presenta i nuovi premiati I personaggi che hanno ricevuto i riconoscimenti da parte dei giornalisti E vediamo chi sono E vediamo che qui abbiamo volti noti Come quello di Paolo Cevoli Noto attore comico che non ha bisogno di presentazioni E sarà premiato per la sua ventennale amicizia Per la collaborazione con la comunità L'Imprevisto E poi abbiamo Angelo Fabrini Che è un accordatore di pianoforte Famoso in tutto il mondo Ha lavorato con i più prestigiosi musicisti Pianisti appunto del mondo E poi Ferdinando Cecini E Giorgia Righi Due personaggi che hanno ricevuto il premio Sono due scrittori Che hanno ricevuto il premio Orgoglio Pesarese E infine Suor Francesca Federici Suor Francesca Federici Clarissa Suora di Clausura E in Africa da 25 anni Ed è attualmente l'unica suora bianca Tra tutte le Clarisse di Clausura Della Nigeria Insomma una pecora nera Tra le bianche Tra le nere Insomma le bianche e nere E via dicendo Comunque il colore della pelle Non conta nulla Conta invece l'opera Che queste suore bianche e nere Fanno appunto in questo paese Giriamo il Corriere Adriatico Lo chiudiamo E vediamo invece la pagina Del resto del Carlino La pagina di Fanno Con l'apertura dedicata appunto Alle iniziative sportive Del club nautico Vivani Canottaggio e vela Atleti a secco Per lo sport nautico Si fa poco E il giornale approfitta appunto Di queste due iniziative importanti Che fa il club Per porre alla ribalta Alcuni problemi Che riguardano appunto Le società sportive Che si dedicano Alla passione per il mare Che cosa necessita Queste società Innanzitutto Un scalo d'allaggio pubblico Un scalo d'allaggio Che possa così Essere usato Da tutte le associazioni Senza discriminazioni E senza costi eccessivi E poi uno scivolo galeggiante E un'area per il kitesurf Queste sono un po' Le richieste che vengono fatte Insomma Il sindaco ieri Era presente Alla presentazione Di queste due gare sportive Ha detto Ci sono degli ostacoli normativi Cercheremo di superarli Insomma C'è l'impegno Dell'amministrazione comunale Di venire incontro A queste richieste E poi Vediamo qui L'articolo Che riguarda L'incidente di ieri A Sant'Orso I dodicenni Stavano pedalando Mentre attraversavano Via Soncino Sotto sciocco La conducente Dell'auto E certo Non poteva essere Diversamente A Urbino La grande corsa Verso il farro Prezzi Certi Ebbene La crisi Del grano Invita le imprese agricole A cambiare registro E a coltivare Un altro cereale Il farro Un antico cereale Che proviene addirittura Dai tempi Dell'antica Roma Dove era molto Molto usato Anche Nei nostri tempi È tornato In auge Ed è importante Questa iniziativa Perché le ditte Le aziende agricole Del nostro territorio Potranno combinare I prezzi Prima della semina E quindi Sono sicuri Di quello che otterranno Quando sarà Il momento Del raccolto Sappiamo Quanto riceveremo Dalla vendita Prima ancora Di seminare Hanno dichiarato Appunto I titolari Delle aziende E poi Vediamo Di un lutto A fondo pagina Morto Il dottor Roberto Polisca Era stato Primario Di rianimazione Aveva 72 anni Profondamente Legato A Durbino Dopo il pensionamento Si era dedicato Allo studio E alla ricerca Storica Giriamo pagina E vediamo Quello che sta Accadendo A Cagli Con quell'autovelox Che ha seminato Terrore In tutta la strada Tantissime le multe Molti gli automobilisti Sorpresi In fallo E un mare di soldi Che sono arrivate All'amministrazione Comunale Per quanto riguarda Le ammende Vediamo il titolo Autovelox La comandante Revoca l'appalto Perché insomma C'è troppo lavoro A questo punto Non si riesce Nemmeno più A incassare Ha superato Le previsioni Dell'affidamento Travolti Dal numero Di verbali La polizia locale Che non ci aspettavamo Incassati Già 800.000 euro Erano stati Previsti 108.000 Sono stati Incassati 800 Pensate un po' Quante multe Sono state fatte Ebbene Quello È un tratto Dove è molto Molto difficile E rispettare I limiti Di velocità L'apparecchio Però continuerà A essere in funzione Non verrà spento Ma si è deciso Di fare Un nuovo appalto E di affidare La strumentazione Ad un'altra ditta Insomma Che possa Contemperare Un po' Quanto avviene In che modo Non lo conosco Però insomma Si cercherà Di fare Questo Apriamo Anche la pagina Pesarese E vediamo Che forse Così come sta Dicendo Il vice sindaco Daniele Vimini Il ROF Si potrà fare Nel teatro Rossini ROF al teatro Vimini Ci scommette Il Rossini Pronto Per metà Luglio Il vice sindaco La crepa Che preoccupava Si è già Stabilizzata La capienza Sarà da Valutare Per quanto riguarda Il numero Di persone Che potrà Ospitare Il teatro Come piano B Per la lirica Anche i cantieri Navali Sarebbe bello Ha detto Vimini Farci un dopo Festival E guardate Che bello Questo cantiere Navale Che sembra Veramente Un esempio Di architettura Postmoderna E poi Il nuovo Accordo Di muraglia Sia l'accordo Ma la lega Si spacca Ne abbiamo parlato Un voto Travagliato In consiglio comunale Ma in realtà Ricomposto Unanime Tre consiglieri Su cinque Della pattuglia Di Salvini Escono dall'aula Per non partecipare Bellucci e Mattioli Sui problemi Della riorganizzazione Un problema Spezzettare Psichiatria Su cinque Sedi Insomma Psichiatria Un po' qui Un po' Pesaro Un po' a Fano Un po' Nei centri Sociali Nei centri Insomma Di assistenza sociale È veramente Un problema Per quanto riguarda Poi anche i medici Che devono fare la spola Tra un Sussidio E l'altro Passiamo Sorvogliamo Sul premio Del Circo E la stampa Ne abbiamo già parlato Vediamo il volto Sorridente Di Paolo Cevoli Che appunto Saluta I lettori Del Carlino Giustizia Tiepida adesione Allo sciopero Ieri Come in tutta Italia Non c'è stata Una grande affluenza Allo sciopero Dei magistrati Solo sei giudici Su sedici A Pesaro Hanno protestato Contro la riforma Della Cartabia In procura Quattro su cinque A Urbino Tutti i PM Erano al lavoro Quindi non c'è stata Una grande adesione E poi Un lutto Morta Maria Palazzetti Il cordoglio Della VL Oggi In funerali In Duomo E poi ancora Malato Per lavorare Ma in forma Al tennis Un agente di polizia Assolto Dalla truffa Condannato Per falso Per i giudici È compatibile Giocare Mentre si è a casa Per dolori Alla schiena Da punire Invece L'uso Dei certificati Medici Quindi Sono delle valutazioni Un po' Soggettive Da parte Dei giudici Un po' Che insomma Lasciano Così Fanno Considerare Insomma La discrezionalità Appunto Dei magistrati E sarà Oggetto Del referendum Delle considerazioni Del referendum Che è in programma Per il mese Di giugno E con questo Abbiamo Concluso La nostra Rassegna stampa Massimo Foghetti Vi saluta Vi dà appuntamento A domani Nei notizie del giorno Alle 20.30 Con occhio alla notizia Su Fano TV Per questa sera E io Non mi rimane altro Che salutarvi E quindi Vi auguro Una buona giornata A risentirci Grazie a tutti Grazie a tutti